Marco Giusti animatore di Stato Insieme allora raccontaci questa esperienza entusiasmante anche quest'anno un bilancio direi più che positivo una marea di ragazzi, 180 addirittura che hanno preso parte a questo centro esivo che possiamo dirlo senza far rabbiare gli altri insomma è di fatto molto importante di Cervignano ecco come mai è così tanto successo? è così tanto successo perché comunque noi siamo un gruppo di animatori abbastanza affiattati nel far questo, ci mettiamo tutto l'impegno e la voglia che abbiamo dentro di noi e questa esperienza dura per i bambini 15 giorni dalla fine di agosto fino all'inizio di settembre invece per noi animatori è un periodo un po' più lungo di preparazione e noi iniziamo più o meno all'inizio dell'anno, verso gennaio e ci incontriamo per decidere vari appuntamenti che cosa fare abbiamo degli appuntamenti espirituali che valgono per noi e tutto questo serve a far sì che 15 giorni siano divertenti e più bambini ispirati però è anche un'esperienza educativa ad esempio ogni anno voi scegliete un tema quest'anno l'antico Egitto che serve diciamo un po' anche a far imparare la storia piuttosto che le tipità manuali ai bambini quindi è davvero un percorso proprio formativo che proponete sì, diciamo che il nostro centro estivo, il nostro, con memoria la collaborazione è molto grande è un centro estivo cristiano, non puntiamo su quello non come altri centri estivi che magari è solo un passatempo per i bambini quindi questa è la cosa diciamo che fa la differenza sì, caratterizza sì, certo senti, tu perché hai deciso di diventare animatore? eh, diciamo che il mio percorso indicatorio è fino a quando ero bambino ho fatto anch'io è stato insieme e gli animatori mi sono riusciti a trasmettere anche l'altro quindi si è riuscito all'interno esatto sono riusciti a trasmettere questi valori che per me sono stati significativi e allora anch'io dopo diciamo hai l'orgoglio e la voglia di far questo anche con gli altri bambini più piccoli di te certo, di far imparare loro quello che hai imparato tu sostanzialmente ecco, che ruolo quindi è il creatore San Michele all'interno della comunità secondo te dal punto di vista educativo? è un buono, secondo me è un valore abbastanza valido e saldo che porta ad anni indietro porta avanti questa cosa e perché fa crescere sia bambini che noi animatori in un percorso che magari dopo una certa età vogliono migliorarsi e un percorso di crescita anche personale, spirituale e non so propone a Cervignano una cosa magari diversa in cui altri paesi non hanno questa intimità di certo, quindi se non ci fosse come vedresti Cervignano senza recreatorio? è una cosa difficile a dire per me però immaginabile c'è sempre stata esatto sono 5 anni che è sul territorio si è una cosa non so vedrai ciò che viene un po' spoglia come come i bambini magari i ragazzi che si vedono sulle panchine stanno lì a magari far nulla senza fare nessuna attività nessuna cosa di crescita propositiva di una cosa un po' sterile si come nelle grandi città magari un po' spersonalizzante in qualche modo ecco quindi per te l'ho chiesto anche a una tua collega prima che cosa significa che cosa significa per far parte delle creadori cioè ti senti parte di un qualche cosa in che modo eh mi sento parte di Cervignano perché visto che Cervignano è solo il comune diciamo che caratterizza caratterizzato tutti insieme in altri paesi o non si fa e ti senti partecipi quando hai 180 bambini che ognuno lì ti riconoscono la mattina nel pomeriggio per fare le attività i giochi è una soddisfazione anche i miei genitori che vedono come punto di riferimento o gli animatori o il gruppo di stati insieme è una cosa certo senti punti di forza Marco e debolezze se ce ne sono del ricreatorio o se c'è qualcosa che secondo te abbia migliorato che si può migliorare per il futuro eh i punti di forza siamo noi siamo una cinquantina di animatori e credo che diamo un buon supporto al ricreatorio e cosa da migliorare c'è sempre da migliorare possiamo avere mille difetti mille fare errori che comunque siano giovani però è una fase di crescita anche per noi perciò si spera che in un futuro questo qui valga anche per i bambini come me una fase di crescita un sviluppo ecco e tra cinque anni come ti immagini il ricreatorio? tu ci sarai ancora io spero di di esserci di esserci e lo vedo abbastanza avanzato perché anni indietro quando io faccio i stati insieme erano anni indietro adesso siamo già arrivati a una cinquantina perciò la crescita e lo sviluppo spero che continui certo in questo modo quindi ecco quindi l'associazione il gruppo cioè state insieme ovviamente è parte attiva del ricreatorio ricreatorio immagino è proprio una sua espressione possiamo dire così si e diciamo che per quei 15 giorni i bambini vivono quelli animatori del ricreatorio cioè vivono la giornata e i momenti con loro perciò è parte del ricreatorio fondamentale ecco come può contribuire al è stato insieme in questo caso a rendere il ricreatorio San Michele sempre più un punto di riferimento per i giovani diciamo un po' con la storia che collegavi prima prendendo sempre questa iniziativa una novità una cosa nuova interessante da poter non so prendere esempio anche da altri bambini e in modo tale che ci sia anche una collaborazione tra di loro di che non so l'amico chiama l'altro amico e vieni a fare il centro estivo così perché è una cosa divertente e si divertano tra di loro quindi secondo te l'avere un gruppo di giovani ci sono i giovani che portano nuove idee che danno l'infamità in qualche modo al ricreatorio però il ricreatorio è fatto anche da persone non giovanissime ecco queste persone che cosa portano? qual è il loro lavoro aggiunto? è la loro esperienza i loro anni che sono qua riescono sempre a trovare una soluzione a trovare un accordo a dare anche delle dritte rispetto a magari un bambino un ragazzo come me o giovane che viene lì si ha la voglia di fare però bisogna avere un'impostazione un po' più precisa come si può dire un po' più dettagliata certo quindi tendono anche a mantenere l'equilibrio diciamo sì dare una guida una linea un filo conduttore certo senti all'interno di state insieme anche quest'anno avete organizzato tante gitte la montagna la bicicletta il parco acquatico il parco acquatico ecco perché sono importanti queste uscite con i bambini sul territorio? eh perché non credo non è da poco portare cento tante bambini con ciò un climatore non so far una comunità tutti insieme in montagna io non so quanti bambini possono vivere questa esperienza o almeno non so il clima che si in questi 15 giorni che si rende non so un mito di collaborazione una cosa si inonda poco certo quindi insomma lo riproporrete e questo è anche un'altra arma vincente diciamo che è stato insieme un'ultima domanda Marco perché hai deciso di far parte del creatolo anni fa quando eri bambino chi ti ha avvicinato la tua famiglia è stata una scelta tua? sì allora sinceramente i primi anni non volevo non la vedevo una cosa così tanto interessante però dopo e praticando proprio lo sforzo degli genitori i parenti che mi hanno un po' hanno spinto dopo mamma ha avuto un'abitudine iniziamo a venire con il ricattore e chiedere com'è come si fa poi ti è piaciuto il decido di restare bene ti ringraziamo grazie 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 grazie